teniamo la palla noi cercamo di maula se non ci abbiamo l'opportunità di fare un passaggio se vediamo che il compagno che il compagno non ci detta il passaggio otteniamo la noi gli facciamo il giro stiamo a destra non c'è lo sbocco giro palla proviamo a sinistra ok tu fai tutti i movimenti possibili immagina prova a tagliare allargati vai a destra vai a sinistra crea crea quel passaggio che potrebbero fare i due mediani con la punta perché alle piani incontro va bene mi raccomando eh mettiamo al contrario metti lo primo che berna ultimo allora regà di pomeriggio nella partita lo sapete non vedevo di niente non so se vi capita pure a voi ogni ogni partita secondo poi uno di chi va incontra di trovare di cerca di fomentarsi da soli per determinate partite no questa ma io dire una partita che non non serve neanche da da presentarla per fortuna anche grazie alla alla vostra collaborazione la disponibilità che vi è stata vi è stata fatta la domanda di potersi allenare quattro volte a settimana ce l'avete data le partite le vittorie non vengono non vengono casualmente vengono soltanto se determinate persone in mezzo al campo sono unite sono coese sono sono tosse vincendo quattro delle cinque partite consecutive per 2 a 1 comunque significa che la squadra è è diventata forte di testa e soprattutto di gambe perché poi uno se vuole vuole con la testa vorrebbe fare un miardo di cose poi è normale che dopo 20 25 minuti se non c'hai benzina nelle gambe la testa ti dice di fare cose le gambe non ti rispondono adesso ci riesce ci riescono tante cose ci riescono anche cose che secondo me tre mesi fa nessuno avrebbe immaginato quindi adesso ad affrontare una partita del genere a come siamo adesso secondo me non è da è da stupidi come ho detto venerdì e e lunedì non non provarci l'unica cosa che vi devo chiedere di essere più molto di più incisivi davanti quindi quelle palle che vi capitano speriamo che ce ne capitano tante non dobbiamo fa solo due gol non dobbiamo fa quattro perché oggi due magari riusciamo a farne due potrebbero non bastare quindi mi raccomando regà migliori di noi stessi non di loro andiamo a vincere questa partita grazie 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 ragazzi A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Occhio al centro! Occhio al centro! Nero, ma tu passi indietro, vai! Occhio al centro! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.